Andremo a mangiare dell'ananas, mia piccola testolina di pione. Skipper, guarda! Analisi! Sembra una lampadina incandescenza che segnala qualcosa di insolito, come un malfunzionamento. La trovo bellina e vagamente ipnotica. Anche questo, signore. Bene, Rico, il manuale. Problema risolto. Signore, siamo senza carburante. Cosa devo far pensare? Si è spento il motore 1. E il motore 2 non è più avvolto dalle fiamme. Cinture, ragazzi. Non guardare, Pupa. Potrebbe mettersi male. Attenzione, qui è il comandante che vi parla. Ho una notizia buona e una cattiva. La buona notizia è che stiamo per atterrare. Quella cattiva è che sarà un atterraggio di fortuna. Bene. Se si tratta di volare, sappiamo che non avete ancora scelta. Grazie per aver volato con Erbe.